... del 15-18, rispondiamo presente ogni nome che vi dico. Davraccio Simone, presente. Filippelli Nicola, presente. Granitto Antonio, presente. Isacco Pietro, presente. Zappolo Salvatore, presente. Carrizzo Giovan Giuseppe, presente. Adesso ricordiamo quelli caduti nella seconda guerra mondiale. Inutile Elia, presente. Pastore Pietro, presente. Carrizzo Michele, presente. Rinaldi Marcellino, presente. Tino Gaetano, presente. Zappolo Salvatore, presente. Infine c'è stata una vittima civile, Caruso Zappolo Filomena, presente. Katia, senza la città. Chissà, senza la città. Chissà, senza la città. Quutteto, qu'è la città. Qu'è la città? Grazie a tutti